E Varese ha l'occasione per ricucire lo strappo, Allan contro Candy, continua col palleggio insistito Allan, 10 secondi per andare al tiro, chiama le aiuti Ramondino in difesa, Allan questa volta per Moretti, spara da 3, Davide Moretti, meno 1 Varese, 75 a 74. Che spettacolo questa partita, sicuramente meno punti segnati in media rispetto al primo quarto, ma tutta la gara sul filo della parità. Chris Dau, jump dalla media con il controllo delle emozioni più totale, Chris Dau per il più 3 nuovo di Tortona, poi sbaglia Allan, tocco a rimbalzo. Questo di Varese chiede scusa a Gonella, il tocco era francamente incredibile di Varese se il fisco fosse stato al contrario, non sono neanche andati a controllare la lista André Play, ma obiettivamente non ci sono dubbi, anche Varese non ha protestato la palla di Tortona sul più 3 con 1,35 da giocare. Dau in punta per Leo Candi, lavora dal palleggio, poi la violazione di passi perché Candi si è alzato secondo Paternico, da regolamento non si può. E quindi il pallone è per Varese sotto di 3, Allan si butta dentro, poi riapre per Moretti, questa volta la filta su Dau, ancora la difesa molto attenta di Dau. Allan da 3, lungo, si lotta a rimbalzo, riviene fuori Wims, poi serve Leo Candi, è già dall'altra parte numero 7, è riuscito alla fortuna di Bologna. Dau rallenta ancora il gioco, da 3 punti, fuori misura e non di poco, McDermott vuole correre, Varese, adesso mancano 36 secondi al termine, più 3 Tortona. Moretti, c'è il cambio da Dosevic che rimane con lui e gli dica il tiro, McDermott contro Candi, 5 secondi, prova a tirare Varese con Allan, frontale da 3! Esplode Masnago, 77 pari, time out per coach Ramondino, perché adesso ha l'azione piena per vincere la partita, ma Varese ha definitivamente ricucito lo strappo. Bonus esaurito per Varese, Chris Dau può andare fino in fondo, Cortona, Dau contro Allan, vediamo se arriva il blocco di Wims, eccolo qua. Dau rischia di perdere il pallone, poi Wims frontale da 3! Kyle Wims! Il graffio del campione con il numero 34. Kyle Wims a 5,9 secondi dal termine. Beck Dermott con la rimessa, esce Allan, marcato da Abbasoan, vuole crearsi lo spazio, il fallo netto di Abbasoan su Allan. Che ingenuità da parte del Belga, ma adesso Allan deve fare 3 su 3 per pareggiare a un secondo e 4 dal termine. Sbaglia! E non di poco il primo, è a livello di emozioni, qui siamo all'ennesima. Adesso deve segnare questo e provare a sbagliare il terzo. Poi per prendere il rimbalzo, ma questo lo deve segnare per forza, perché poi il tempo per un tiro da 3 non c'è. Questo lo segna. Infatti Paternico adesso dice attenzione alle invasioni sull'arco dei tre punti, perché sa che lo deve andare a sbagliare. Un secondo e 4 da giocare. C'è Collinstein e Brown a rimbalzo. Per Varese, tabella dice no, la tocca Abbasoan. Gli arbitri potrebbero concedere qualche decimo, vediamo perché il cronometro ha suonato la fine. Finisce qui, Tortona svanca Masnago. Villageschi prova a chiedere l'instant replay per avere qualche decimo. E allora, visto che non è stato utilizzato, va a vedere il tempo. Paternico, davvero una partita che non ne vuole sapere di terminare. Questa è sicuramente una buona inquadratura. Tanto capire di chi è il tocco e secondo me è di Abbasoan tutta la vita, ma il problema è capire poi quando la palla tocca a terra, non quando esce dal campo. Vedete che adesso va avanti, il cronometro pure. Il pallone è altissimo, quindi ci sta che il cronometro arrivi fino alla fine. 0-4, la palla è ancora in volo. Però il pallone deve toccare a terra. Qui gli arbitri invece stanno andando a vedere quando la palla esce dal campo, ma francamente dovrebbero vedere quando la palla tocca a terra. Andiamo a vedere cosa stanno andando a decidere. Intanto il tocco stanno andando a decidere, perché probabilmente poi Bilazeschi ha chiesto quello, non ha chiesto il controllo del tempo. E quindi giustamente gli arbitri su quello si devono concentrare. Adesso devono vedere quando il pallone tocca a terra, perché qui suona la sirena. Finisce il match dell'Itelium Arena. Il pallone era ancora in volo. Tortona, come l'anno scorso, sbanca Masnago. L'anno scorso di 1, quest'anno di 2, 80 a 78 per Tortona.